Sono diventate definitive nove condanne scattate nell'ambito dell'operazione Beige eseguita dai carabinieri che aveva fatto emergere numerosi casi di assenteismo al comune di Barcellona Pozzo di Gotto. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze messe in primo grado nell'ottobre 2013 dalla Corte d'Appello nel maggio del 2015. Salvatore Bellinvia dovrà scontare due anni e sei mesi di reclusione ad oltre ad una multa di 800 euro. Maria Rosa Milone è stata condannata a due anni di reclusione e 600 euro di multa. Per Antonino Calabroi invece è stata confermata la condanna a due anni di reclusione e 300 euro di multa mentre Maria Tindera San Giovanni doveva scontare un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa. Sei mesi di reclusione invece per Giuseppe Cutugne e Doreste Zucco che dovranno pagare rispettivamente una multa di 300 euro il primo e di 200 euro il secondo. Infine condanne di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per Grazia Marullo, Patrizia Passeri e Santa Bucca. Tutti e nove sono stati inoltre condannati a risalcimento del danno che dovranno liquidare in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto che si è costituito parte civile nei tre gradi di giudizio ed è stato rappresentato in giudizio dall'avvocato Filippo Barbera. Per altre 35 persone coinvolte nell'inchiesta antiassenteismo è scattata invece la prescrizione. Grazie.